Cosa avrò fatto di male in questi anni, quando tutto è saltato? E non avere una propria opinione critica, è diventato reato. Le regole della massa impede, son credere a tutto, come un imbecille. E quando sarà tutto finito, non leggeri di più il loro sbattito. Si andava a scuola, si studiava filosofia, ma poi ciò è passato in cavalleria. Scuola, lavoro, economia, senza un bricio di autonomia. E c'è per un contenitore, un computer da programmare, un oggetto da usare attivamente. Voi, voi che ci state a far venire? Voi che credete da un pezzo, che la gente muore così a cazzo? Cos'altro deve accadere, per non farvi ancora prendere per il sede. Forse una canzone non potrà cambiare le cose, ma almeno potrò dire. Le regole della cosiddetta community, sono solo in posizioni dall'alto. Per mettere in soggezione, chi dorme ancora è neanche un cuglione. Cosa avrò fatto di male in questi anni, quando tutto è saltato? Ed avere una propria opinione critica, è diventato un reato. Le regole della massa imbelle, sono un credere a tutto. E quando tutto sarà finito, non leggerete più il loro spartitore. Questa l'ho presa oggi, usata, anche se è nuova. Questa andrebbe con un ampliatore VOX e non questo Marshall. Però sono ampliatori a transistor. No, vabbè, funziona. Questo sta pure abbastanza fisso, visto che cascava. Forse l'hanno migliorata in questi anni. Beh, i primi modelli. Io preferivo quella di un altro colore, ma questa l'ho trovata. Allora, mi piace l'idea di questa chitarra, più che la chitarra. Cioè, mi piace il fatto che non ha quello fuori fase, tipo l'originale Mustang. Si può andare ad aiutare per farselo fare, si mette un switch qui. Magari lo farò fare. Vabbè, comunque la chitarra... Allora, adesso ho tutte le asimmetriche. Tutte. Non originali. Se... Questo va usato con molta parsimonia perché sennò si stona. E poi io non lo so usare mentre solo quando all'ultimo lo vedo. Una grande misonanza sull'atacultico. Cioè gli strumenti che suonano più forti. Questo è Basswood. Non mi ricordo come si dice in italiano. Devo andare a cercare. Molto anni sessanta. Anche questo... Perloide qui. Vabbè. Prefisco qua perché... Dico la verità perché molte volte suonando vado a toccare questo e mi si sposta. Ehm... Il peggiore era quello che ce l'aveva dritti qui. Non orizzontale. Quindi quando suonavo lo andavo a... a levare dritti e tre. E' meglio l'orizzontale. Perché l'orizzontale... Perché l'orizzontale... Non... Non li tocchi. Non li... Perché questo se li devo tutti e due... Diventa muto. L'altro no. Quello così. C'è sempre un pick up che prende il suono. Vabbè. Ehm... Scala corta. La canzone ancora devo calibrarla. Devo cantarla diverse volte. Ancora non ho capito come fa la melodia. L'ho fatta io però. Vabbè. Arrivederci.